Ciao a tutti. Sono tornato di nuovo a questo altro tutorial. In questo video ti mostrerò come creare una cartella su Google Drive. Ciao ragazzo, in questo video ti mostrerò come creare una nuova cartella in Google Drive. Quindi, iniziamo per prima cosa ragazzi è che dovete aprire il browser Google Chrome poi dopo quel ragazzo come potete vedere questa icona che nell'angolo in alto a destra basta toccarla ragazzi poi dopo come potete vedere basta toccare semplicemente la guida. Come puoi vedere qui ragazzo, ti indirizza qui nella pagina di Google Drive. Quindi, ora ragazzo, se vuoi creare una nuova cartella perché vuoi trasferire i file in una nuova cartella ragazzi ora per creare una nuova cartella come puoi vedere nell'angolo in alto a sinistra dello schermo come puoi vedere l'icona più nuova basta semplicemente toccarlo. Quindi, come puoi vedere, fai clic sulla nuova cartella per creare una nuova cartella. Una volta che hai finito di toccare la nuova cartella, come puoi vedere, ti indirizza qui. Ora inserisci semplicemente il nome della cartella come vuoi chiamarla UMM. Ad esempio qui inserirò un test folder, quindi dopo aver inserito il nome tocca Crea. Come potete vedere ragazzi la cartella è già stata creata, ora apriamo una cartella qui potete trasferire tutti i file che volete trasferire qui è tutto ragazzi. Quindi, è abbastanza semplice e veloce creare una nuova cartella. Grazie per aver guardato Gai S. Grazie per aver guardato Gai S.